Un documentario racconta la storia di 80 anni di attività della scuola Aristide Gabelli di Belluno e rievoca la figura centrale di Pierina Boranga. Gabelli, la scuola più bella d'Italia, è il duocufilm che ha prodotto Belluno-Ciac insieme a due associazioni che hanno collaborato con noi, la filarmonica di Belluno che ha avuto anche l'idea propositiva per questo lavoro che poi noi abbiamo realizzato e l'associazione Cittadini per il recupero delle Gabelli che ci ha fornito materiale fotografico e testuale tratto dalla mostra itinerante che loro avevano già fatto per parlare dell'importanza del recupero di questa scuola. Il docufilm prevede una parte documentale fatta da diverse fotografie d'epoca che fanno un po' rivivere la scuola Gabelli che attualmente è dismessa ed anche una parte filmica. Perché? Perché abbiamo voluto portare avanti questo lavoro e sottolineare l'importanza di questa scuola e del suo metodo attraverso la figura di Pierina Boranga per questo ringrazio la famiglia che ci ha dato l'autorizzazione e tramite attori abbiamo ricostruito la parte che riguardava la vita di Pierina Boranga in quanto non c'era materiale fotografico. Abbiamo più o meno utilizzato un'ottantina di persone che hanno collaborato nei vari ruoli del docufilm e abbiamo interessato un po' tutta la provincia per musei e associazioni che hanno collaborato con noi, ad esempio le Sentinelle dei Lagazzuoi con cui abbiamo fatto una ricostruzione storica di alpini in divisa che ci servivano in una scena girata a Castion nella Podere dei Miari e poi anche e soprattutto il Museo Valentino del Fabbro gestito da Fioretto Bortot che si trova a Cavarzano che ci ha fornito innumerevoli oggetti da altri tempi che era importante fare vedere. Ringraziamo oltre alle vette che ci ha dato lo spazio in quanto verrà proiettato il 5 ottobre al Teatro Comunale di Belluno alle ore 9 ed anche tutto impreziosito dal fatto che abbiamo voluto utilizzare come attori proprio i bambini attuali delle scuole gabelli.